bene a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video raga oggi siamo ritornati in un nuovo video finalmente raga di gt5 online mi raccomando raga questo qua è un video che merita veramente tanto perchè da tanto tempo che non mi hanno fatto nel plus e niente non ho giocato da tanto gta raga direi di farvi vedere la mia casa perchè in questi episodi vi farò vedere la mia casa, il mio garage, le mie macchine, le mie proprietà allora direi innanzitutto intanto che fuori ci sono le esplosioni ma dai perchè no vi faccio vedere le mie macchine raga forse le avete già viste sono povero ho guardate qua pochissimi soldi veramente pochi allora è bugato? si era bugato questa macchina raga è quella che mi piace devo dire la verità di meno di tutte però è una bomba va molto veloce questa qua è la mia preferita invece questa qua raga questa qua corre guardate che bella l'ho modificata già poi c'è la mia Bati con la marca stronzo così a caso italiana raga l'ho messo solo perchè è italiana questa casa mi è costata veramente tanto allora raga ci tenevo a far vedere no raga sto leggendo le mail di questo qua allora dovrei occuparti in questo episodio non facciamo le missioni allora vi faccio dei miei vestiti allora aspettate un attimo allora i vestiti sono scemo quello che ho mo' bello che sarebbe questo qua americano il ceo figo maglia nera maglia nera oh mio dio felpa pantaloncini maglia bomber viola scemo raga direi di fare lo scemo oggi dai usciamo dal garage ok entriamo subito a casa nostra tour della casa praticamente pagà ah ma sono ancora io non sono entrato ok allora queste qua sono le mie armi giusto per farvi vedere allora raga ci tenevo a dirvi intanto raga faccio vedere la casa bellissima giganternima soggiorno questa qua non sarà una serie cioè che questi video che farò su gta online gta se li farò normale ma penso che bella bella youtube bella bella stavo dicendo questa qua non sarà una serie non sarà una serie saranno video che farò ma che cavolo c'è lasciamo stare saranno video che praticamente farò io e basta quando voglia allora questo qua dovrebbe essere il primo perché un altro l'avevo fatto un po' l'ho cancellato vari problemi che ci sono stati mi stavo facendo vedere il tour raga il bagno che è giganterrimo veramente gigante ho detto i miei tatuaggi raga ci tenevo a farvi vedere i vestiti perché io veramente neanche io me li ricordo uno mi è suonato raga apriamo intanto casi miei alermi non si possono prendere quindi dai bro intanto casi miei alermi non si possono prendere fai entrare questo qua raga dai bro tanto che se a casa vuole stare entra raga fai quello che vuoi bro allora raga intanto ci torno a farvi dei vestiti andiamo con il scolo aperto non so se a come oh bro è andato sotto lo mi sa raga oppure sopra beviti un tè se vuoi allora no cosa a caso io no non mi piace questa qua raga ho tantissime maglie accessori scarpe lasciate stare i miei pillini di me però oh bro a questo qua faccio una cosa questi non veramente tanti veramente tanti oh bro oh bro oh bro oh ciao raga ma tu parli io non vi ho su youtube bro è bella vedi così di casa aspetta ma che vuoi fare che moff sto facendo il tour di casa mi chiamo explorer 719 con la grande bra tu puoi salire sopra che si puoi venire fra tanto non vi casalingo diciamo puoi salire ragazzi sai tanto nessun problema raga non ci credo vabbè così di caso vai vai breghiamoci un po' dai che fa molto bene vai vai ricambio pure qualche vestito raga che maglia nera sto bene così direi no 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 stai non possiamo fare più niente però questo è brutto non possiamo fare più niente scendiamo sotto non lo so andiamo sulla sono povero fra esci esci tutti voi dall'appartamento ho fatto vai 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 ragazzi mi raccomando un bel like dai oh frego mettete lo metto proprio hai capito no salino regale aspetta che ma cosa c'è la tua macchina no 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 non io era tanto per finire da te ma era capito era fregata perché ti faccio dentro sei dentro dai sono uscito sono scema aspetta citofanemi prima che rientro citofanemi ti apro aspetta che si sta baffendo tutto mi entro di nuovo ma dove sei non ti ho visto bug sei entrato aspetta ci sono entrato citofanemi è citofanato fai entrare vai hai chiamato pure a me lester ah io che me l'ho detto ah capito scusa scusa continuo eh non me lo ricordo mi ricordo soltanto l'abbati che sarebbe stamoso qua faccio una cosa mettiti vicino l'abbati girati 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 no con la faccia davanti alla fotocamera un selfie dai lo sono salvato vai oh mio dio fra che vuoi fare andiamo a cazzagliare un po' chiudo il video e che ci cazzagliare un po' va bro ragazzi dire che il video termina qua grazie a tutte le visione mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi noi ci vediamo in un prossimo video che sarà non so se di minecraft vediamo vabbè ciao raga oh mio dio forse non sto guardando grazie a tutti ион grazie a tutti grazie a tutti